La direttiva europea Bolkestein ogni anno tiene in apprensione la categoria dei titolari degli stabilimenti balneari sulle coste della penisola italiana. Un affanno che si ripete anche sulla riviera molisane-abruzzese che guarda all'Adriatico. Dal governo arriva la proroga di un altro anno per trovare i rimedi giusti alle difficoltà delle imprese. Confidiamo che questo governo possa aiutare ulteriormente la categoria e quindi fare in modo che ci possa essere una lungimiranza, cioè un periodo più lungo per la gestione delle concessioni demaniali. Noi siamo fiduciosi e quindi il nostro presidente Capacchione ci informa quotidianamente dell'operato, del sindacato e della politica. e quindi aspettiamo solo buone notizie. Aver spostato di un anno credo che possa essere un tempo utile per definire una strategia, cioè un modo per trovare questa soluzione che noi praticamente sono 15 anni che c'è questa direttiva Bolkestein. Quindi conviviamo con questa incertezza da troppo tempo e se vogliamo rendere le nostre spiagge di qualità, se vogliamo che gli imprenditori facciano degli investimenti, è naturale che c'è bisogno di un tempo congruo per poter ammortizzare gli investimenti, quindi aiuterebbe tutta la categoria ma aiuterebbe tutto il turismo italiano.